Per quello che lei chiede di esaminare bene i tempi, perché non vengono utilizzate le intercettazioni quando era senatore. Io chiedo una cosa diversa, io voglio sapere se quelle intercettazioni sono state prese in modo legittimo o no. Per me le possono acquisire, non c'è niente che mi preoccupi in quelle intercettazioni. Se loro pensano che siano utili al processo, fanno bene ad acquisirle, ma devono farlo secondo le leggi e la Costituzione. Perché? Facciamo l'esempio così, le rispondo alla domanda che lei ha fatto, dice fa un'accusa pesante. Sì, molto pesante. Hanno preso il mio conto corrente. Ora, nel mio conto corrente, io sono una persona fortunata, ci sono, grazie a una serie di, ovviamente alla indennità parlamentare, ma anche grazie a queste conferenze che faccio, molto discusse, criticate, in Italia, soprattutto all'estero, ci sono tanti soldi. Non ho problemi a dirlo. Sono dichiarati, quindi sono nella dichiarazione dei redditi come previsto dal parlamentare, tutto regolare, tutto legittimo. Però hanno preso il mio conto corrente. Allora, se tu entri e prendi il conto corrente e puoi farlo, è tutto legittimo. Se non puoi farlo e lo fa lo Stato, c'è un problema. Fino a che lo fanno a Matteo Renzi, Matteo Renzi trova la gentilezza e anche le due domande di Giretti che dicono, spiegaci. Ma se lo fanno a un cittadino? È chiaro. Scusi, facciamo un esempio. Mettà che lei ci abbia in quel conto corrente una spesa perché c'è un figlio segreto? Che c'è un'operazione che non vuol far sapere? Che dà 100 euro in più a un figlio o non a un figlio? Guardi che questo è un elemento che è molto impattante sulla privacy delle persone. Io non ho problemi, io sono pulito. Ecco, le posso chiedere una cosa, tutte queste conferenze che lei fa all'estero eccetera... Ma le torno a questo passaggio? No, no, lei l'ha spiegato, l'ha detto, è un punto interrogativo al quale devo... Non lo dico per me, ormai a me il conto corrente è pubblico, ormai le intercettazioni sono pubbliche, le email sono pubbliche, quindi io non ho più problemi. Voglio soltanto dire, poi ritengo, a casa, se voi dite che questa cosa non è importante, provate a lasciare il telefonino, l'iPad, l'home banking e datemi PIN, codice e password. C'è chi dice che voi siete persone che fanno politica e quindi in teoria i vostri conti dovrebbero essere trasparenti. La dichiarazione dei redditi, scusi Giulietti, io sono trasparente, quello che voglio dire è che io non sono d'accordo sul fatto che... No, non solo, io non sono d'accordo sul fatto che un parlamentare, perché fa il parlamentare, possa essere non soltanto intercettato o pedinato in autogrill o controllato... Ma che ci faceva con Mancini? È passato tanto tempo, l'uomo dei servizi segreti, si può sapere oggi, secondo lei, quell'operazione che è andata poi in televisione, che operazione era? Ma le sembra normale che uno dica che c'è un testimone che sta 40 minuti chiuso in macchina casualmente e dice che io e lei ci incontriamo all'autogrill, dopodiché io riparto e vado a destra e lei riparte e va a sinistra. Ma come fai a dirlo? In autogrill, se uno va a destra e l'altro va a sinistra, fa un frontale, perché in autogrill c'è l'autostrada. Si può dire, è passato tempo, però prima mi dica lei, le sembra normale che un testimone... No, non mi faccia entrare, i dubbi ci sono assolutamente, io non credo mai alla casualità, se lei mi risponde, lei lo dico, io non credo alla casualità. Lei è un paraguru, mi faccia dire. Non credo mai alla casualità di questo tipo, soprattutto... No, ma come fa ad andare a destra e a sinistra? La città è la casualità.